Bene signori, un po' di obbligazioni in dollari per diversificazione, perché alcuni si sono accorti che dal 2022 in poi sono un'ottima alternativa ai REITs, perché pagano e ritanno i soldi che ci mettiamo e sono molto meno tassati, perché il dollaro anche quest'anno, la dedollarizzazione, che ne parlano da quando facevo io mercati che ho iniziato a comprare i primi BTP, i primi bond nel 2006, che ne sento parlare, arriverà l'anno prossimo. Parliamone, parliamone, vedo che questo argomento interessa e la speranza, ecco, io mi metto dalla parte stavolta di noi investitori, che in caso la BCE fa questa manovra che sinceramente neanche io mi aspettavo, quella del taglio di tassi anticipando la Federal Reserve, che probabilmente l'economia americana ha trovato il suo equilibrio, è più forte, è più pimpante della nostra, c'è meno welfare che pesa sulle casse dello Stato americano. Cosa succede? Che loro hanno trovato il loro equilibrio, hanno abbassato l'inflazione, l'economia va ancora, da noi si è abbassata l'inflazione, almeno secondo i dati che ci riportano loro, però l'economia inizia a soffrire, ci sono i prestiti da pagare, i munici che si arrestano alti, troppo a lungo, creano danni all'immobiliare, a tutto l'indotto che provoca. Siamo soltanto, l'abbiamo fatto per due anni, figuriamoci se questa situazione si protrae nel tempo. Che altro volevo dire? C'è questa probabilità, quindi chi non è già esposto in dollari può valutare, perché ovviamente il dollaro tenderà a rinforzarsi, non è assolutamente, lo dicono gli analisti, il remoto lo scenario che il dollaro potrà diventare più forte dell'euro, magari anche con una sorta di continuità, perché pagando degli interessi più alti i soldi si spostano verso questo asset. Io sinceramente me lo auguro, perché per noi sarebbe molto conveniente avere una valuta più debole del dollaro, andarci ad investire, e avere magari queste cedole che con il tempo magari si rivalutano un dollaro, almeno sulla pari, sull'1 a 1, che l'abbiamo pagato sopra la pari, incassiamo queste cedole e magari possiamo subito cambiarle, così facciamo anche una sorta di presa di profitto temporanea e manteniamo comunque l'investimento. Scenario peggiore, il dollaro poi con il tempo si indebolisce, e comunque è sempre il dollaro, insomma, è una valuta importantissima, e da quando i mercati hanno iniziato a ballare, hanno iniziato un po' queste incertezze nel mondo, è diventato sempre più le volte che è diventato forte di quelle che è diventato debole. Comunque, per investire in dollari bisogna avere una visione non ribassista sul dollaro. Comunque, partiamo dalla prima obbligazione, che sulle corporate ho scelto una scadenza breve, prezzo leggermente sotto la pari, è una bella cedola che in euro così alte le troviamo a 110, a parità di rating. Ho scelto la Pedro Brasil, che scade a gennaio del 2028, quindi praticamente a fine 27, molto presto. Taglio 2K, quindi non è il classico taglio solo da 1K, però ovviamente poi metteteci le commissioni, eccetera, eccetera. Vanno valutate bene anche i tagli, i tagli da metterci anche sulle obbligazioni. E sta veramente 5,9999 periodico, io ho arrotondato a 6, paga semestralmente le cedole a gennaio e a luglio. Quindi questo totale di 6% lordo è praticamente tassato poi al 26%. Quindi notiamo, ecco questo, soprattutto il prezzo, che noi abbiamo delle obbligazioni in euro sotto il 4%, non lo so, adesso è difficile prendere un Delenia, ad esempio, che pagano il 4,12 e stanno sopra a 102, quelle famose messe l'anno scorso anche per i retail. Invece nei dollari c'è questo panorama di tante obbligazioni, si può anche diversificare meglio. Difatti mi sono tenuto poi per le ultime due obbligazioni che vi ho portato degli emittenti statali, che poi magari andiamo anche a parlare di un'altra operatività. Simili alle Petro Brasil, però queste ne abbiamo già parlato, ci sono le Pemex, che sono tantissime, ha tanto debito, è comunque una partecipata dello Stato, l'equivalente a una Eni messicana. Hanno una scadenza molto breve di Pemex, poi ce ne sono tante, e io che le ho avute una volta vi possono proporre, tramite la vostra banca, di allungare e prendere quelle con la cedola più grandi. Quindi voi, se non rispondete, non vi succede nulla, portate a scadenza quelle che avete e incassate le cedole, a meno che non fa default l'emittente. Se ne parla, ci sono delle notizie, che ha tanto debito, ci sono le elezioni anche là, se non sbaglio, adesso non ne sono sicuro. Vedete Scoring Rising, qua il taglio minimo è da 10k, quindi non è poco, non è per tutti i patrimoni. Paga un simpatico 3,25% a marzo e a settembre. È tassata anche lei al 26%, quindi un 6,5%, e il prezzo è sotto la pari. Le Pemex hanno questa particolarità che il mercato, io l'ho avuto una volta soltanto, sinceramente, e non ho avuto problemi, però le Pemex le sottopaluta, secondo me, perché anche a livello di rating, una volta c'è stato un downgrade, andarono a dei prezzi ancora più bassi di quelli di adesso, però poi tuttavia, chi sarà il governo nel Messico, io che faccio obbligazioni da 20 anni, rimette sempre le cose a posto, poi, ovviamente, la SAITS va valutata, il rischio rendimento è un'alternativa, insomma, non esporsi sempre negli stessi emittenti. Poi sono andata a scegliere due obbligazioni statali, ovviamente io cerco sempre di alzare il più possibile la cedola fissa, perché le migliori obbligazioni, ragazzi, sono quelle a cedola fissa, alta, non questi giochini che stanno facendo con gli step down, sì, qualche step up posso accettarlo, perché sai, si sale, ma non sappiamo che con il mercato, con gli step down, siccome tanti tanti anni fa mi è successo a me, per fortuna era una piccola SAITS, lo so che bucchia e fregatura si prende con le step down, o con le indicizzazioni all'Euribor e cose varie, però chi ci è cascato, non lo so se si ricorderà delle mie prediche del 2023, del 2024. Il Messico del 2040, sta l'anno 48, comunque paga una bella cedola, come vedete, paga anche lui luglio e gennaio, vedete, scorre nell'eising, ecco, queste statali, mi piacciono, anche che hanno una bella cedola, perché riuscire a prenderla sotto la pari queste belle cedole, non è da tutti gli anni, secondo me, nei mercati finanziari. Io ovviamente poi all'ultima obbligazione che vi ho portato, che è questa America addirittura, quindi il rating A per perdere i soldi qua, devono andare falliti gli Stati Uniti d'America, e quindi non lo so se noi staremo ancora, io starò su questa sedia, su questa poltrona a parlare, che diavolo è successo, non lo so. Che scade presto dell'825? L'America, però, ecco, questa è sempre l'opinione mia personale, andrebbe sfruttata per quelle un po' più lunghe, se si trova una cedola così alta, perché questa è del 5%, sta appena appena sotto la pari, quindi è una cosa veramente, un 5% in dollari, sta, io ho messo quella, diciamo, più breve, però magari, ecco, poi ne posterò altre, perché, per il motivo precedente, anche con la Lua, io mi sono preso una Polonia abbastanza lunga, prima di tutto perché ci dà la pazienza, ci paga queste cedole tassate al 12,5%, come fossero dei nostri BTP in dollari, ce li tassano poco, ci dà la costanza che possiamo decidere noi o aspettare con tanta pazienza, incassando bene, seppur in dollari, una debolezza, un'eventuale debolezza forte dell'euro, per poi magari incassare e venderle, e quindi prendercela più comoda, quindi valutate questo, ecco, io ho messo questa obbligazione, però, da vecchio investitore di obbligazioni, solitamente, se l'emittente è così affidabile, è così potente, la cedola è così alta, è meglio andare lunghi, mentre giocarsi le scadenze più brevi, per i titoli un po' più, tra virgolette, un po' più ballerini, o quantomeno, che ci danno meno sicurezza a noi, perché poi ognuno, c'è chi ha paura delle Pemex, chi ha paura dell'America, non ha paura dei Bitcoin, insomma. Non ho messo la Romania, la cito, perché c'è la Romania sotto la pari, anche in dollari, lunga, perché è in questo caso, siccome in euro, che noi siamo, io parlo in lingua italiana, siamo legati all'euro, sono rari i rendimenti così alti, a questi prezzi in euro, quindi è una carta, che è bene giocarsi con gli euro, a livello, per diversificare anche il rischio. Fatemi sapere se il video vi piace, domande sotto il video YouTube, per favore, verrà postato anche su Facebook, iscrivetevi al canale, alla prossima ragazzi, grazie.